Città Sospese è un progetto di documentazione che è come oggetto i siti italiani UNESCO, fotografati in un momento di grande difficoltà del nostro paese. È stato realizzato con la collaborazione del Comando Tutela del Patrimonio dei Carabinieri, con l'Istituto Centrale del Catalogo e con i caschi blu della cultura. Si svolge a Palazzo Poli, luogo iconico della nostra capitale. Città Sospese è un progetto nato nella primavera del 2020 su input del Ministro Franceschini. L'idea era quella di testimoniare attraverso lo sguardo di quattro fotografi i siti UNESCO, in questo momento speriamo irripetibile. Questa mostra è la terza di un progetto più ampio della Direzione Generale della Creatività Contemporanea del nostro Ministero della Cultura e in particolare vede come protagonisti quattro fotografi particolarmente qualificati proprio nell'ambito di quelle che sono le azioni di tutela del nostro patrimonio culturale. La mostra testimonia la capacità della Task Force Caschi Blu della Cultura di operare a favore del patrimonio culturale in tutti gli scenari emergenziali. Anche in questa occasione ha avuto modo di mettere in atto tutta la sua alta capacità organizzativa riuscendo ad attraversare il paese da nord a sud in soli sette giorni consentendo ai suoi fotografi di fare degli scatti meravigliosi che si osservano in questa mostra. Queste fotografie che documentano un periodo così particolare della nostra storia faranno parte delle collezioni dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dove saranno disponibili in futuro per tutti i ricercatori che vorranno venire a vederle. Grazie a tutti.